Buongiorno a tutti, continuiamo i nostri spunti sulla parasha Tashavua. Questa settimana la parasha è Bo, nella quale poi vengono raccontate le ultime piaghe che porteranno gli ebrei a uscire dall'Egitto la prossima settimana con la parasha di Beshallach e comincerà poi il viaggio dei Bene Israel verso la terra di Israele. La parasha comincia ricordando che Akadosh Baruch Hu ha deciso di indurire il cuore del Faraone e per questo motivo poi gli ebrei sono rimasti più a lungo schiavi in Egitto e non sono usciti subito verso l'Erez Israele. Differentemente dalle altre volte che è stato detto che Akadosh Baruch Hu ha indurito il cuore del Faraone è scritto un motivo. La Torah ci spiega il motivo per cui Akadosh Baruch Hu ha deciso di fare questo. Qual è il motivo? Scritto chiaramente nella parasha che tu possa raccontare a tuo figlio e a tua nipote Quindi la parasha di Beshallach si apre con il motivo al fatto che Akadosh Baruch Hu ha indurito il cuore del Faraone. Il motivo è perché noi dobbiamo avere qualcosa da raccontare ai nostri figli. E' un po' strano nel senso che ci sono... perché soffermarsi sul racconto? Ci sono altre mille motivazioni che potevano essere date qua. Però il motivo che la Torah stessa dà a questo è perché noi dobbiamo avere qualcosa da raccontare ai nostri figli. Se noi andiamo alla fine della parasha nel capitolo 13 verso 9 è scritto Ancora una volta la parasha della settimana si sofferma sul racconto. I Kachamim dicono che da questa parasha noi impariamo la mitzvah del seder di Pesach. Per andare a capire l'importanza del racconto soprattutto in questo momento storico di Amisrael Amisrael è in procinto di andare insieme come popolo verso Eretz Israel. Amisrael si sta costruendo. Amisrael non è ancora popolo. Amisrael è... sono tante unità divise tra loro. Amisrael deve diventare un popolo. Deve diventare un popolo attraverso il racconto. Il seder di Pesach è il giorno dove noi siamo obbligati attraverso il racconto di ricordarci come si diventa popolo. Per capire questo bisogna andare a vedere come si apre il seder di Pesach. Il seder di Pesach si apre con il passo di Al-Aqmania. I Kachamim si chiedono per quale motivo aprire il seder di Pesach in aramaico. E rispondono che l'aramaico era la lingua parlata dal popolo. Questo passo, il passo principale del seder di Pesach, Al-Aqmania, è scritto in una lingua chiara a tutti. Dentro Al-Aqmania noi possiamo capire tutto il valore del seder di Pesach e del racconto. Che cosa diciamo durante Al-Aqmania? Durante Al-Aqmania noi invitiamo i poveri di Amisrael a mangiare se ne hanno bisogno. Noi diciamo chi vuole venga e mangi. Come concludiamo il passo? Leshanah Baabe Arade Israel, l'anno prossimo in Erez Israel, l'anno prossimo liberi. I maestri si chiedono che senso ha tutto il seder di Pesach se poi già prima del seder stesso tu hai già concluso tutto. Racconti del pane della povertà, della schiavitù egizia. Racconti del fatto che la nostra speranza è quella di andare in Erez Israel. Che è poi come concludiamo il seder di Pesach. I passaggi sono esattamente questi. Raccontiamo tutta la schiavitù e poi alla fine diciamo Leshanah Baabe Arushalayim. Quindi bisogna andare a capire un attimino questo Al-Aqmania. C'è un'usanza che è molto utilizzata in moltissime comunità che durante Al-Aqmania noi apriamo la porta. Noi apriamo la porta come per dire se adesso si presenta un povero di Am Israel che ha bisogno di mangiare noi lo stiamo invitando. Adesso il Rebbe De Lubavitch si fa una domanda e dice ma se veramente si presentasse un povero alla tua porta saresti effettivamente contento? Saresti contento di poter offrire il tuo cibo a un povero che si presenta alla tua porta la sera del seder? Se tu sei pronto veramente allora puoi cominciare il seder di Pesach. Al-Aqmania è un avvertimento. Ti dice tu sei pronto a diventare un popolo? Tu sei pronto ad aiutare un altro Yehudin in difficoltà? Se la risposta è sì puoi cominciare il seder di Pesach. Puoi cominciare a raccontare perché il racconto è quello che poi ti fa diventare un popolo. Se invece non sei pronto non cominciare neanche il seder di Pesach. Il seder di Pesach non è una cena in famiglia. Il seder di Pesach è costruire le basi per essere un popolo unito. Questo è il ve'igadatà, il raccontare. C'è però una differenza tra il primo racconto e il secondo racconto. Il primo racconto è fatto a tuo figlio e a tuo nipote. Il secondo racconto è fatto solamente a tuo figlio. Perché questa differenza? L'obbligo di ognuno di noi è quello di raccontare a nostro figlio l'uscita dell'Ebrea dall'Egitto. Di formare nostro figlio all'ebraismo. L'obiettivo massimo che ci dobbiamo porre è che poi nostro figlio faccia esattamente lo stesso con suo figlio. Non solo abbiamo bisogno dell'unità nel popolo ebraico, abbiamo bisogno di continuare a generare Torah. Noi dobbiamo continuare di generazione in generazione a raccontare, a studiare, a insegnare Torah. Solamente in questo modo tu rimarrai un popolo. Quindi le due basi fondamentali che impariamo dalla parasha di Bo per essere un popolo ed essere pronti a ricevere la Torah ed essere pronti ad entrare nel Rez Israel sono l'unità del popolo ebraico e la Torah. Se manca una di queste due, non siamo ancora pronti. Volevo terminare la lezione ricordando Rav Chaim della Rocca perché Rav Chaim della Rocca attraverso il racconto ha unito il popolo. Dopo un periodo terribile dopo che soprattutto nella comunità di Roma c'era grande afflizione Rav della Rocca attraverso il racconto ha riportato unità e non ha solo rapportato unità non ha solo portato unità ha portato il fatto di portare altre persone altri alunni a raccontare Torah non si è fermato al figlio non si è fermato agli alunni ma ha fatto sì che gli alunni continuassero poi a insegnare Torah pensiamo che in ogni comunità italiana attualmente c'è un Talmid c'è un Rav che è stato Talmid di Rav Chaim della Rocca perché Rav Chaim della Rocca basava la sua vita per prima cosa nell'aiuto del prossimo non ha mai abbandonato nessuno e seconda cosa per lui era fondamentale trasmettere e stimolare gli alunni a continuare poi a insegnare Torah Shabbat Shalom